E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi un gioco super bello e super divertente, stiamo parlando di Fall Guys. È un giochino ragazzi che è uscito da pochissimo tempo, da circa una settimana, e che io sto giocando dal day one, in quanto è un gioco assolutamente divertente, specialmente se giocate con i vostri amici. Infatti oggi ne giocheremo in compagnia dello Xuderone e di Efesto 96, che conoscerete sicuramente tutti quanti. E peraltro vi mostrerò come ho fatto due vittorie consecutive, che peraltro io non mi aspettavo minimamente di vincere, in quanto quella mappa particolare io l'ho sempre odiata. Ma andate a vedere meglio nel video. Vi ricordo ragazzi, molto importante di seguirmi live su Twitch tutti i giorni, sia la mattina che la sera, in quanto appunto streamo circa 10 ore e passa tutti i giorni. Questo ragazzi è il link, che trovate comunque o qui o giù in descrizione. Vi ricordo di seguirmi tutti quanti i miei prodotti social, che trovate sempre in descrizione tra Instagram e TikTok, per vedere video e foto assolutamente strabilianti. E poi vi volevo dire una cosa, perché so sicuramente che avete notato tutti quanti un cambiamento di colore. Prima ero viola, adesso sono passata a un colore molto più scuro, diciamo un colore naturale, in quanto mi ero un po' annoiata dei vari colori, perché da mantenere sono un po' difficoltosi, poi rompono un po' le scatoline, e quindi sono passata a un colore naturale che si avvicina di più al mio. Vi piace ragazzi questo colore? Pensate che io ci stia bene? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti, perché sono curiosa del, non lo so, della vostra, del vostro parere. Ma adesso non perdiamoci in chiacchiere e andiamo a giocare. Ma è giusto Martina, hai detto benissimo. Ci voleva un gioco. Una ventata ad aria fresca così. Sì. Oh carcazzo, spingi! Guarda che questo non sa giocare, io te lo dico. Stai sotto calmo, mi sto già agitando. No, ma la sua skin è troppo bella Xyuder, troppo troppo bella. La ringrazio, la ringrazio, è molto gentile. Eh no, per me, per non riusciare, non mi passano. No, 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 entriamo, entriamo. Ok. Questa lattina, via via, salta lì, salta lì, salta lì. Ok, quello è figato, dai, andiamo, andiamo, andiamo. Io non mi pari mica Porco Diaz. No, Ivo. Faccio vomitare a Spruzzo. Ivo. No, Ido. No, Ido. Direi perché sono Porco Diaz, non esiste. No, no, la voglia, la voglia, la voglia, la voglia. Io pure nei film non l'ho sentito dire. Andiamo? Ma che c***o vuoi? Io sono sempre davanti a te, Riccardo. Eh no, sto cercando la patate. Io sono squalificato, sto cercando proprio per qua. Ok, ci siamo, ci siamo. Sì, sono davanti, andiamo, andiamo. Oi, 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 salti, eh. Devi buttarsi a spiglia di pesce qua. Qual è la porta questa qui? Buono. Dai che ci qualifichiamo, Martina. Sì, sì, ci qualifichiamo sicuramente. Easy, easy, sono tipo quinto. Vabbè, io l'ho appena trovata e qualificato, cioè non ho capito. Io sono tipo decima, credo. Let's go. Marti, che numero sei tu? Come lo vedo, con tab? No, si vede in basso a sinistra, dovessi vederlo. Ah, ok. Easy, lettre, schima, schermo. Che ora non si veda. Stres, trima, schermo. Uno, uno, otto, uno. Uno, uno, otto, uno, perfetto. Oh, il colvedino arrivo da sumo, non so. I'm ready. Ok. Questo è facilissimo, il perfect match. Ecco, questo è un livello che va sistemato assolutamente. Troppo noioso. Sì, è tra i secondi. Non è noioso. Banane, laponi, ciliegie, ciliegie, arancie. Ok, siamo qua, perfetto. Ok, arancia. Easy, easy, easy. No, 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 mi vogliono buttare giù. No, 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 sono caduto in due. Ma come cazzo è che devi sto schema? Andiamo. Te ne è che è scatta anche lei una volta. Ha ragione, perché qualcuno mi ha spinto. Pesca, uva, anguria. Ok, qui l'uva, qui l'uva, qui l'uva, qui l'uva, perfetto. Ci siamo. Troppi. No, no, Xudder. No. Ci sono, ci sono, sono aggrappatao. Sono aggrappatao. Ok, ok. Aveva ridere troppo la skin di Xudder. Sì, sì, è troppo bella. È veramente bella. Sì, bravo, potete chiamare la pesca, me la e poi l'uva, porco di hat. Non so dove, non lo so. Segui la massa, segui la massa. Sì, 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 ancora per poco. Oddio, io non l'avevo trovato. Bene, bene. Dai, dai, dai. Ok, qua dobbiamo centrare i buchi, eh. Meno male che non c'è Fesco, perché sennò quel cazzo che c'è i buchi. Lei non c'entra un buco da 15-18, dai. Ma guardi che a parer mio io sono l'unico sposato qua, quindi attenzione. Appare su, ha ovvie cose, mi speso. Andiamo? Eh, si è distratto, si è distratto. Eh, mi hanno distratto i buchi. Oh, comprensibile. Non l'ha missato, attenzione. Guardi che io sto migliorando a questo. Oh, quello giusto. Quello giusto, no? Quello oro, quello giusto. No, 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 eccolo, eccolo, c'è un buco. Buco. Let's go. Guarda che bel buco. Eh, ok, il mio. Oh, attenzione, chi si prende spudentemente anche un altro. Guarda che sto facendo vincere la squadra, attenzione. E poi rodo la forza di Videl Tunnel in rasagne. Attenzione, guardatemi rodo. Oggi mangio Viteltonato, ragazzi. Non vedo l'ora di mangiarlo. Ragazzi, troppi buchi, cioè, assurdo. Sono tantissimi. È finita, Martina? No, no, ma ne ho centrati tantissimi, giuro. Nice. Sì, da, non c'entra un buco. Ma che c***o sto dicendo che ho proprio 12.000 punti solo io, figa? Aspetta, dice lei. Non ha le prove. Bene, bene, bene. Questo è il mio preferito. E qua dove ho fatto la vittoria. Eh, anche il mio è soltanto che faccio cagare. Io lo amo. Troppo figa. Ma quanti siamo? Troppi. Io penso che vincisci tu prima. Eh, ma stiamo andando benissimo. Eh, lo so, poi si è cascata direttamente. Eh, ma qui siamo tantissimi, però. E qua sarà complicato. Bruttissimo. Eh, si, bisogna resistere il più possibile. Soprò che la gente tutta quanta cadrà come dei fagioli. Oddio. Questa è la patatina di X-Huter. Ciao X-Huter, che fa? Casca subito? E questo, adesso devi stare in silenzio, E questo. Oh, chiudere, tu devi stare in silenzio. Attenzione, non c***o più buco. E questo devi stare silenziosamente zitto. Riproviamo. Non ce la faccio, non ce la faccio, perché parli. Non sei giù, Martina, sei giù. Sono molto giù. Continui, continui. Rega, rega. Questa, a*****o. Guardi sotto, che non c'è niente. No, sono caduta alla quattordicesima. E muore così. No! No, complimenti lo stesso, però, per un telo. E non lo so, era su. Però... E' andato vicinissimo. Veramente. E' andato lo stesso. Grazie, bello. In 17 era difficilissimo. No, troppi, troppi, si cade subito. Per me non passo. Non passo. Guardi che fino a prova con 3, lei è quello che non sa salire sui rulli. Andiamo. Ok, sono sul rullo, perfetto, perfetto. Easy. Sono prima per il momento. No, prima no. Dai, dai, dai. Fai di terza, barra, quarta. Corri, 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 corri. Tu dietro di lei, Martina, andiamo, andiamo, andiamo. Dobbiamo entrare nel buco? No, si è chiuso il buco. Si è chiuso il buco? Aprite il buco! Let's go. Andiamo? No. Ha chiudo prima, ragazzi, la vinco. È primo, è prima, è prima, ce la fa, ce la fa. Eh, no, non ce la faccio, non ce la faccio, perché ho preso contro una serie di ciambelle. Oh, ho fatto... Oh, sono partito subito. Che fortissimo. Dai, mi chiamo. Dai, buono, buono. Martina, vieni a qualificarti. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Let's go, tutti e tre. Capisco. In fattore di ping, intendo. Ah, in fattore di ping. Cioè, il fatto che è una persona più scarsa, riesca a prendermi comunque un mura, avere il vantaggio, è una cosa che, competitivamente parlando, mi dà parecchia noia, perché lì non è questione di abilità, è questione di vantaggio, perché tu... Io abito in Africa e lui abita... Assolutamente. Quindi mi dà parecchia noia. Oh, oh, sto figlio di un gallo, vuole prendere l'uovo d'oro. Ragazzi, se difendiamo sui bordi, con i rossi, non possono più uscire loro, eh. Ok, porto l'ultimo uovo e difendiamo. No, l'uovo d'oro, l'uovo d'oro, l'ho bloccato, l'uovo, l'uovo, l'uovo d'oro. Mia, mia, mia. Tutti con noi ce l'hanno, bruttissima questa cosa, eh. Sì, sì, molto brutta. Serve uno fuori che ci aiuta. Io uovo, no. Io dico l'uovo d'oro, eh. Ragazzi, ragazzi, stanno portando fuori 17 di uova, figa. No, 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 prendo un uovo, presso, presso, presso. Presso un uovo, presso un uovo. Ragazzi, stanno portando l'uovo d'oro, ragazzi, non stoppi. Stiamo perdendo. No, ragazzi, non dovete stare là sopra, dovete scendere sotto. Sto deputino da sopra. No, 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 shooter, shooter, da sotto, vede, deputino. No, perché da sopra non riescono a salire se io li blocco. Ma perché? Ma non c'era neanche una sfida in corso. Grazie di cuore, Taddins. Grazie di cuore. Io però mi aspetto delle sfide da parte sua, mi scordo. Grazie di cuore. No, questa è brutta, questa è brutta, non mi piace. È il mio preferito. Questa qua è passata una volta su Diagio. No! Diagio, che trampata che ho preso. Ragazzi, io quitto, ve lo dico, eh. Sono giù! Questa a me fa veramente rosicare, giuro. Sono giù di nuovo. Eh, questa qua è totalmente casuale, Matti, ci può fare un caldo. Sì, no, qua non fa fare nulla. Corri, 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 corri. Porco, 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 Picosca. Daga, ce la facciamo, ce la faccio, ce la faccio. Sì, 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 sono settima. Appure 32, caspiti, di così pronte. Grazie, no, undicesimo. Bravi, 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 bravi. Siete forti, andate a parte. Dai, Ivo, però. Grazie, Taddins. Ma proprio sono 72 pesci in faccia. Dobbiamo passare noi, Xiterone, a meno questo. Sì, sì, se passiamo qua, vinciamo uno di due e vince la finale. Ok. Ah, io mi butto, andiamo se indovino. Ok, faccio schifo. No, non dico. Ok. No. Mi hanno spinto nel buco. Ok, ok. Quindi è sicuramente di qua. Guarda quello! Io ho paura, io ho molta paura, Xiterone, ho molta paura. Cosa è la fine, eh? No, no. Mi l'ho votato giù, mi l'ho votato giù, la fine. No, no, ce la fa, ce la fa, ce la fa. Ancora siamo fermi, siamo fermi, siamo fermi, ce la fa. Oh, cavolo. No! Si spieghi, si spieghi, ce la può fare, ce la può fare, ce la può fare. Non so cosa fare, questo. Non so cosa fare, sto panicando malissimo. No, no, non panichi, non panichi, non panichi. Ce la può fare. Eh, no, è finito. Sono arrivata terza, sono arrivata terza. Oh, c'è l'ultimo posto, l'ultimo posto, c'è l'ultimo posto. Vada, vada, vada. No! 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 Mi ha saltato. Ha saltato prima, mannaggia. Ho saltato prima, ho saltato prima. E subito, a lei a destra. Beh, è uguale a... Allora, se vinco mi faccio pelata. No! Lo stai dicendo, andiamo? Perfetto. Bravissima. No, la palla no. Brava, brava, brava. Non mi metta anzi. Mi scusi, mi scusi, mi sto... E' il calentazzo che usi per prendere persone e poi quando ti butti da coronare. Di Marty. Mi oddio, è tuo Marty. Se questo sbaglio è tuo, eh. Oddio! Oddio! Sì, no. Salta bene, salta bene. Aspetta che scende. Sì! Sì! Per lo chiuderone! No, a chiudere! Let's go! Non ci credo! Seconda vittoria! E mo' sono c***o i tuoi, devi tagliare i capelli. No! Aspetta che vado a cancellare il VOD. Io lo farei immediatamente. Complimenti! Martina quindi pelata, ragazzi. Sono contentissimo, la seconda vittoria. Cos'è? Sì, sì, era di impossibile. Questo è quello che faccio a te. Do easy! Vai, spingete! Bravi! Sì, ma che c***o è successo? Ma che cos'è? Una mucchiata qui! Oh, è figa! Oddio! Easy! La chiudete i primi sei, forse? Oddio, la chiudo primo! Oh, Martina, quanto c***o è corso! C'è una seconda? No, quinta, mi sa. Sì, sai perché, Ivo? Perché c'erano due che mi stavano spingendo. E quindi mi hanno fatto, tipo, bustare. Non mi stili il secondo posto. Mi scusi, sono andato penso io secondo c***o. Ma il bot ce l'ha fatta? Sì, sì. Sì, sì, fortunatamente sì. Grande! Let's go! Buongiorno, 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 buongiorno. Ah, non l'ho visto, eh. Non l'ho visto neanche io dopo qua. Non sono mai stato divertito. Perché anch'io non sono mai stato divertito. È una cosa anche carina, anche se è rara che possa accadere, però ci sta. E c***o vuoi dalla mia coda, pezzo di m***a? Io pure ho la coda. E la rubata! Io ti prendo la coda. Ma che sono intelligenti. No, comunque i server vanno in desinque assurdo, eh. Ma porca m***a, mi hanno rubato la coda. Anche a me. Ma la stiamo continuando a rubare tra di noi, ma stiamo scazzando. E' rubata la coda. Ma gliel'ho presa al volo, eh. Non mi è mai successo. Quindi si può prendere anche saltandogli addosso, raga. A quanto pare sì. A quanto pare sì. Oddio. Bravo, 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 bravo. Sì. Ne abbiamo due. No, una. L'ho rubata una, l'ho presa, l'ho presa. Cioè, ma scusami, ma perché il verde mi ruba la coda a me? Ma è stupido. Perché sono dei congiorni. No, Ivo, non ci posso chiedere. L'ho rubata, l'ho rubata. Sì, ma ma continuo a rubare la coda anche a me, raga. Sad story, sad story, sad story. Blu giocano, giocano bene in team, eh. Il blu fermano. L'ho rubata al giallo. No, me l'hanno ripresa. Il verde me l'ho presa, l'ho presa. Ma sempre mi ha rubato la coda, figlio di un verde. Raga, prendete una coda. Presa, presa, presa. Me l'hanno rubata. Presa di nuovo. Presa, presa, presa. Sopra di due, sopra di due. Oddio, la fammi mi chiama. Rubatissima. La mantengo, la mantengo, la mantengo. Mantieni, mantieni. Ok, bene, 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 bene. Oddio. Fa caldo? Oddio, quello che odio. Oddio, quello che odio. Questo è il mio preferito. Io lo odio, non passo mai qua io. Ok. Andiamo, andiamo. Sono le pallette, vi vedo davanti a me, siete. Io sto andando bene, sono secondo attualmente. Ice. È troppa gente qua da me, non riesco a muovermi bene. Sono prima, sono prima, sono prima. Vai, Marty. Prima, prima, prima. Questo è il mio preferito, io questo lo amo, mi piace tantissimo. Bella. In più c'è anche da ricordare che, per esempio, non hanno mai fatto un abbonamento su Twitch. Fino al 31, alla prima sub c'è un 20% di sconto. Questa era la novità di ieri. Marty, Marty, non cade. No, 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 sono ferma. Perché mi spingono questi? Ok, mi qualifico, mi qualifico. Quarta. Andiamo. Ok, per favore, voglio quello dei rompi. È bellissimo. È finale sui rompi per lei, questa. È suo, è suo. Lo spero. Mi cambiano andare a destra, immagino. Eh sì. Tanto è uguale un percorso. È uguale. Bellissimo, Marty, messa molto bene. È esattamente seconda. Oddio, che c***o. Di realtà è meglio, eh. Bellissima. È tua, è tua. Oddio. Non c'è nessuno, è tua. È tua. Aspetta, scende. Non te la prendo, non te la possono prendere. È tua. Sì! Due vitture di fila! Non ci credo! Due di fila, ragazzi. Let's go! Due di fila! Non ci posso credere. Attenzione, non vinco mai su quella. Per te la 25, vinto due di fila. Bene, ragazzi. Per questo video è tutto. Spero che vi sia divertiti e che vi sia piaciuto. Vi ricordo di seguirmi su Twitch tutti i giorni live, sia la mattina che la sera, ed di seguirmi sui vari social, che trovate qui in descrizione. A un prossimo video e una buona giornata. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.